Mi sono sbagliato la gara, non è ancora finita, ma finirà a breve. A breve finirà. Sì, poi lo slalom deve tornare indietro. Non ho fatto lo slalom. Mi sta lagando addosso. Recupero io! Basta! 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 Lascia quel pedale! Ah, ops! Comunque ci siamo. Sì, chiedo se è finita. È finita completamente la gara? Ok, finita. Finita! Ora ascoltiamo la classifica e vediamo se dovrei essere secondo. Poi adesso vediamo. Non so cosa inquadrare. Non ho un'idea di come... Sentiamo? Partiamo dal terzo posto. Questo è il primo Gran Premio Rally di Porto Mario. Categoria Young. Continuiamo a inquadrare la macchina mentre sentiamo la classifica. Adesso abbiamo Michele che ha fortuna di come... Io ho vinto per un secondo. Un applauso a Michele! Non è Michele, Michele, dove sei? Eh, fatti vedere, no? Fatti vedere per un applauso. Esatto, dai! Poi abbiamo al secondo posto... Rudy, tamori. Oh! Al secondo posto abbiamo incredibilmente... Comunque ha realizzato il record di pista con il 131, ma non ce l'ha fatta per qualche secondo. Alessio! Però un applauso! Insomma, il secondo posto non era facile, eh? Sì, il secondo posto. Adesso. E il primo posto, per solo la distanza di un secondo, di un secondo, è a Mattia, che vince il buono gelato per domani. Un applauso! Grazie, veramente. Adesso, se c'è qualche grandicello che non ha proprio voglia di giocare, prendiamo almeno cinque iscritti e facciamo questo gran premio. Possiamo rifare. Il vincitore della categoria Young può sfidare anche i grandi. Quindi servono quattro amoni coraggiosi che vogliono sfidarci. Oh, manco! E darei le maxi nosti? Io... E darei le maxi nosti? Io vinto! E darei le maxi nosti? Out!